Steph, che stai facendo? Eh, sto pranzando, ho fame. No, Steph, nei sogni non si mangia. Hamburger, hot dog e altro hot dog. E ti sei pure sporcato tutta la maglietta, guarda. Eh, vabbè, Fede. Ma dai, devi mangiare il tuo meglio. Tanto è un sogno. Adesso, guarda, io smetto di guardare. Conto fino a tre e la maglietta sarà pulita. Lo succederà, Steph. Uno, due e tre. Ragazzi, come va? Io sono Fede Niki. E io sono Steph, perché stai giochiamando Suicide Guy. E siamo qui a registrare subito anche il secondo episodio, perché ci è piaciuto tanto. Siamo curiosi di vedere cosa ci aspetta nel quinto livello, quindi iniziamo subito. Non c'è neanche tempo da perdere, lo sapete come siamo quando troviamo un nuovo gioco, quindi... Che ci piace, certo. Andiamo, andiamo, andiamo subito, subito, subito. Vediamo che cos'è questa nostra statua, perché qua mi aspetto qualcosa di davvero strano. Ok, allora, non è quello che pensavo, nel senso, pensavo che ci fossero tipo delle persone che ci adorano e che hanno fatto qualcosa. È peggio. Invece sembra più un robot, un robot malefico, perché non mi... Cioè, questo laboratorio a me non promette niente di buono. E questo, infatti, è un laboratorio, Fede. Sì. Allora, ascolta me. Io ho già capito. Credo che devono attaccare i due cavi, vedi, nelle tempi. E questo è Frankenstein, Fede. Esatto, abbiamo creato un mostro con la nostra statua. Però sarebbe bello, non ti piacerebbe fare questi esperimenti? A me tantissimo. Però questo è interessante. Andiamo un attimo a vedere, scusate un attimo, che qua ci potrebbe essere qualcosa subito di interessante. E mamma mia, però, un po' di scale in meno le potevate anche mettere. Non stanchi, eh. Ah, ok. Credo che dopo accediamo i cavi. G! Ok. Capito? Ok. Gli diamo la corrente per funzionare. Sì, però secondo me... Mi sa che l'ho vista, mi sa che l'ho vista, mi sa che l'ho vista. La statuetta. Io sono fissato, io sono fissato, eccola. Allora, lo prendo. Si può prendere, si può staccare o ha bisogno di un macchinario. Ah no, ok. Ok, fatto. È attaccato, giusto? Sì. Sì, 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 ha fatto anche la scossettina, quindi mi sembra che sia tutto giusto. Quasi. Peccato, non ce l'hai fatta. Numero due, collegato. Ok. Adesso ci risaliamo tutte le scale e teoricamente attacchiamo la corrente. Mi sembra, e io non voglio dirlo adesso perché so che me ne pentirò, ma mi sembra tutto troppo semplice. Cioè, dopo gli ultimi due livelli che noi abbiamo fatto, mi aspetto qualcosa di complicato. Infatti ci sarà qualcosa di complicato. Senti qualche rumore strano? Per ora no, però questo lettino qua a me fa un sacco di paura. Non si sta parlando. Comunque, noi scendiamo di nuovo giù e vediamo cosa è successo. Amico, per ora non reagisce. Secondo te si muove? Qualche bottone? Sì, secondo me dobbiamo cercare di farlo muovere, però dobbiamo trovare qualcosa per avviarlo. Allora, secondo me manca qualcosa qui perché credo che dobbiamo attirare quei fulmini. Allora, certo, apriamo. Dobbiamo aprire. Attira i fulmini, diamo corrente. E teoricamente noi adesso torniamo giù. E qualcosa dovrebbe essere successo. E la nostra statua si muove. Pensi che si muoverà, vero? Sì. Si muoverà, vero? Sì, sì, sì. Secondo me si muove e sarà davvero gigantesco. Oh, mamma mia, ma non ti puoi girare così appena esci dalla porta? Ma Dio santo! Ciao, come stai oggi? Hai dormito bene? Ok. Ti piacciono i fulmini a te, vero? Eh, sì che a te piacciono i fulmini. Ti posso saltare in testa? Sì. Ciao, bello. Ciao. Aspetta che sennò qua ci filpiamo. Allora, io credo... Che ci dobbiamo far schiacciare. Che lui ci schiacci. Vediamo? Vado? Vai, proviamo. Ancora più inquietante, vero? Sì, sì. Ancora peggio. Questo era decisamente un incubo, te lo dico, eh. Senza dubbio. Decisamente, era molto molto strano. Senza dubbio. Allora, livello fatto e guarda adesso. Questo mi piace. Aspetta. No, 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 no. Pensavo fossero il cibo, il ketchup. No, no, infatti. No, che cos'è, Fere? Non lo so, non lo so. Sembra un'arma tipo degli alieni, non lo so. Andiamo a vedere. Io ero tutto felice, pensavo non ci fosse il cibo. E invece qua c'è una pistola. Aspetta subito che, secondo me, io ho... Questo è Portal, non quello di prima. Questo è Portal. Anche le scatole di prima erano Portal tutta la vita. Credi la statuetta. Allora, statuetta, che se no ti perdiamo. Per chi non sa come funziona Portal, noi possiamo creare due portali. Quando andiamo su un portale, ci teletrasportiamo nell'altro. Molto molto semplice. Allora, l'abbiamo anche giocato Portal, quindi dovremmo essere molto bravi. Dovremmo essere avvantaggiati, sì. Esatto, esatto. Allora. Vieni a fare uno nel pavimento. O nel soffitto. Vediamo un attimo. Continuiamo a fare un giro, vedi, all'infinito. Eh, ma qua... Ok, qua anche lì. Se tu facciamo tipo così... Abbiamo creato il portale infinito. Fede. Ok. Ce l'ho fatta. Fatto, Fede. Facile. Ah, perché ne hai messo uno nel pavimento, uno nel soffitto, quindi come siamo caduti dal soffitto, ci siamo schiamati sul pavimento. Beh, basta chiedere. È stato semplice. Basta chiedere. E vabbè, dai, con Portal non potevamo incastrarci. Su, ci siamo già incastrati abbastanza nel gioco stesso. Allora, a questo punto... Uh, lo so già che livello è. Ho visto una foto. Guarda. Aspetta. Questo è fantastico. Mi piace? Sì, fai tantissimo. Tantissimo. Guarda. È Super Mario. Sì. Bello. Che carine queste cose. L'hanno fatto davvero bene. Allora, no, guardati dietro. Vedi che c'è quella zona. Io volevo salire lì sopra, capito? Qui? Secondo me magari c'è la statuetta. Ok, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Arrampicati, arrampicati. Statuetta, yes. Guarda. Esatto. E lo riacchiappo. Perfetto. Quello che ti volevo dire. Perfetto. Aspetta, un po' più in alto. Facciamo tipo così. Opla. Ok. Anche le piante carnivore, in effetti. Eh, ci sono tante cose. Scusa, ti puoi attivare così finiamo il livello? No, lasciamola stare. Non c'è voglia. Per una volta, guarda, l'unica volta che può essere utile non ne ha voglia. Ok, è tempo di fare un po' di parkour tra gli alberi. Andiamo. Dimmi se vedi qualcosa di particolare. Ok, no, per ora no, per ora no. Che ne sai se non mettono due statuette in un solo livello? Certo, certo. Ok. Oddio. A casa mia sto salto è impossibile. Allora, sto pensando. Non chiedermi bene come, ma ce l'ho fatta. No, alla fine si poteva fare, si poteva fare. Mamma mia, è stato abbastanza difficile però. Ok, dimmi che divento più grande. Ti prego, fammi diventare più grande. No, però sei bellissimo. Ciao fungo. Che carino. Allora, ti lasciamo qua. Ok, così lascia aperto. Ah, devi mettere anche il cubetto. Ok, perfetto. Ok, interessante. Quindi noi facciamo... Fede? Ti sei un po' buggato, Stef. Un po'. Rimettiti bene. Un po' tanto buggato. Allora, scusami, eh. Vabbè, lascialo. Magari col funghetto esatto vedi succede qualcosa. E basta che li lasci vicini. E le fa... Fede. Fede. Allora, in questa serie io voglio che i consolini facciano una lista curata di tutti i tuoi fail. Perché poi io li voglio rivedere. Voglio proprio rivedere questa lista e insultarti punto per punto. Ok? Ci stai, Stef? Fede. Secondo me è una bellissima idea questa. E i consolini sono sicura che mi appoggeranno. È tutto ok, Fede. È tutto ok. È tutto ok. Però... Però... Meno male, Stef. Allora, non è solo colpa mia, Fede. Perché quando tu metti il fungo in questa scatola... Diventa gigante. Diventa gigante. Vedi? Infatti, dobbiamo essere velocemente. Corri, 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 corri. Oh, mamma mia, mamma mia. Ok. Il peggio è passato, credo. Però che bellina la zona. È molto carino. Allora, 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 allora. No, no, Fede, Fede, Fede. Secondo me c'è un'altra statuetta. Io lo butto subito lì. Eh, ma poi ci sono le statuette. Ci sono troppe strade, scusami, eh. Guarda. Ma questo che cos'è? Allora, scatola più scatola. No, non buttarti, che poi magari rischiamo di riuscire. No, allora, secondo me qui dobbiamo andare quando abbiamo la seconda scatola. Ok, perfetto. Quindi dobbiamo andare a recuperare quella scatola. Ok? Ok. E quindi ci trocca a fare un super parkour. Perfetto. Vado. C'è tanto parkour in sto gioco. Già, già, già. Però almeno è abbastanza carino di meccanica, quindi non è, diciamo, troppo difficile. Oh. Questo invece sì che lo è. Ok, bene così. Ok. Che cos'è questa roba verde? Non lo so. Secondo te serve a qualcosa? Non ho idea. È un capellino. Aspetta. È il capellino. Lo vedi? Ah, quello di Luigi? Il capellino di Luigi dovrebbe. Eh, ma lo posso indossare? Scusatemi, eh. Io lo voglio indossare. Non posso. Non lo fanno prendere, ma che peccato, però. Allora, quindi, prendiamo questa e andiamo subito a metterla o vuoi aspettare? Se ci pensi un po' ci assomigliamo a Luigi, comunque. Non lo so, sì, secondo me lo mettiamo, perché questa, secondo me, è una seconda parte. Vedi che ci sono troppe cose strane. C'è pure un passaggio qua. Eh, lo so. Una strada là. Una freccia che dica a sto tubo. Oh, quanto dura questo livello sarà difficile. Ma sono da livelli cortissimi, a livelli davvero enormi e pieni di cose. Eh, no. Anche perché qua come ci stai? Qua non riusciamo a salire, secondo me. Bene, guarda che bello. Che stai combinando, Steph. Allora, credo che questa qua sia il tubo che è a massima potenza. Ci farà arrivare agli spuntoni che ci faranno finalmente uscire da questo sogno. Ok. Però, per arrivare a quello, credo che dobbiamo attivare 2000 meccanismi che ci permettono di rendere più potente quel getto per arrivare lì sopra. Ok? Esatto. Eh, scusa, tubo, ma funzioni? Ha qualcosa nella vita? No, sei proprio inutile. Secondo me il funghetto funziona sempre con la scatola, te lo dico. No, certo, però la scatola sta lì, Fara. Prendo la scatola che avevamo? Sì, per ora sì, per ora sì. Anche perché qua c'è un altro funghetto, se notti. Allora, noi adesso investiamo questa scatola per aprire qua. Ok. Poi la riprendiamo. La riprendiamo. Utilizziamo questa scatola, più quella che prendiamo qua, per metterle lì, che ci darà la terza scatola che andiamo a mettere lì. Lo spero, lo spero. Perfetto? Allora, facciamo, è più facile, è più facile a farsi che a dirsi, vai. Ok, allora, la appoggiamo bene qua a terra, mettiamo il nostro amatissimo funghetto, ok, entriamo qua. Cos'è? Ah, quello è per uscire, ok, perfetto. Ok, perfetto, perfetto. Almeno ci hanno dato ancora via di fuga. Opla! Andiamo su, 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 verso l'infinito e altre. Così, teoricamente, dovrebbe andare bene. Bene, ci arrampichiamo qua, ci arrampichiamo qua, ci arrampichiamo qua e prendiamo il terzo. Adesso dobbiamo prenderci un attimino la fatica di portarli tutti e tre, dove ce l'ho? Sopra la testa, di nuovo? Sì, ti si mette sopra la testa quando vai lì. Ok. Di portarli tutti e tre nel passaggio segreto e dovremmo aver completato tutto, finalmente. Esattamente, mi sa che li butto nel buco. Ah no, ma non ci passano. Teoricamente così dovremmo riuscire a scalare. Prendere questo tubo dal basso, teoricamente ci dà più potenza e riusciamo a terminare questo sogno. Io lo spero perlomeno. Allora, tacchete, tacchete. La scaletta sembra che funzioni come l'ho costruita. Ok. Ok, andiamo? Pronta? Sì, pronta. Ok, ce l'abbiamo fatta. Finito anche questo sogno, finalmente. Mamma mia. È stato difficile. Allora, dopo il più veloce di sempre, il più lungo di sempre. Ok, giusto per pareggiare le cose. A questo punto... Uh, un faro. Un faro. Mi piacciono i fari a me. Faro, a te piacciono i fari? Tantissimo. Sono belli. Cioè, non ci vorrei mai vivere dentro. Io ci vorrei anche vivere. Però mi ispira. Ci vorrei anche vivere. Beh, così non ci vorresti vivere. Dai, ammettilo. Sì che ci vorrei vivere. Dai, ammettilo che non è vero. Guarda, è super rilassante. Ammetti che non ci vorresti vivere. Allora, Moby Duck. Moby Duck. Moby Duck, ok. Ci sta? Questa la possiamo prendere. No, però non la smontare. No, 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 no. Questa ci servirà. Fare questa. Ce la portiamo a casa. Statuina, ovviamente. Ok, e questa la mettiamo subito qui dentro. Guarda. Ah, beh, sicuramente. Ah, non dirmi che dobbiamo fare in modo che una nave si schianti sopra di noi o qualcosa. No, dici? Eh, forse sì. Eccola, la vedo. La vedo, la vedo, la vedo. Dove l'hai vista? Forse non scoglio. Guarda che ci sono gli scogli. No, aspetta, l'ho vista, l'ho vista, l'ho vista, l'ho vista, l'ho vista. È lì, è lì, è lì. Eh, così? No, ma le devi mettere la luce sbagliata. No, secondo me, se gliela mettiamo addosso, loro non capiscono più nulla. Eh, così, 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 eh. Tipo, indica. Ma siamo sicuri che sia un iceberg? È scomparso. Secondo me è il Moby Duck, eh, io te lo dico. Dici? Sì, 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 assolutamente. Anche perché non va bene che sia... Anche perché prima era qui davanti, poi scusa. Lo vedi, lo vedi? È una balena, altro che un iceberg. Oh, che schifo. Oh, mamma mia. E quindi dobbiamo farla arrabbiare? L'hai vista? Ma lo so se la dobbiamo far arrabbiare. No, 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 non mettermi... Oh, mamma mia, vandala via! Steph, vandala via! Steph, vandala via! Ciao, balena! Che brutta! Puntaglielo nell'occhio. Ok, sicura? Sì, il faro nell'occhio. Ok. Ma dai, si mangia tutto il faro, ma che dici? Non lo so fare. Nell'occhio, vai. Ok, si sta arrabbiando, Steph. Ok. Si sta decisamente arrabbiando. Vattene, balena, dai. Finiamo questo incubo, vedi? Questo è un incubo. Questo è un incubo, ma proprio tanto. Perché io odio le cose. Fere, dove è andata? È qui sotto, adesso ci pappa, guarda. Dici. Sì, guarda. Ma non è plausibile. Eh, sì che lo è. Tanto è un sogno, quindi non deve essere plausibile. Da dove sbucca? Cerca di capire da dove sbucca, almeno. Non lo so, Steph, ben dito, cavolo. Fere! Fere! Accidenti a te. Ciao! Ma, c'ha accisi? No, ci ha dato una testata. Beh, si è flipato, mi sa. Aspetta, ci ha rotto il faro? Ah, ah. Eh, c'ha un po'... Sì. C'ha un po' rotto il faro. Hai ragione. Purtroppo, ci ha rotto il faro. Come facciamo? Ma è ancora arrabbiatissima. Aspetta, Fere. Ok, Steph. Direi che è ancora arrabbiata. Ok. Ciao. Ciao, balena. Ciao. Come stai oggi? Eh, che bei denti che hai. Però è stretta. Guarda l'occhio. C'è da dire, Steph, che è super fermalosa. Cioè, noi stavamo giocando con le luci. Non c'è bisogno di sbranarci. Ti diamo la carezza e ci perdoni? No. Aspetta, aspetta. Lo vuoi un libro? Tiragli la radio. C'è te la radio. Non possiamo. Cosa dobbiamo fare, secondo te? Non lo so. No, guarda, questa la vuoi? La vuoi la lampadina? Steph. Dimmi. E se la rimetti nelle lampadine le facciamo luce con la lampadina? Hai ragione. Questa, sì. Bravissima. Allora, aspetta. Non abbiamo capito che le dà fastidio la luce, quindi l'importante è... Sì, 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 non le piace proprio la luce. Esatto, è darle fastidio. Allora, eh... Ok. Vieni, vieni qua. La punti nell'occhio. Vieni qua, guarda. Che cavolo vuoi? Guarda, adesso cosa... Oh, mamma mia. Credo che ci stia atterrando addosso. No, secondo me sta scendendo per papparci. Ah, no, se ne è andata. No, ci pappa, Steph. No, no, no. Steph, controlla da che parte arriva. Guarda, 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 guarda come sia al sicuro. Si fermerà di sicuro, adesso frena. Sì, è sicuro, guarda. È addirittura in bo. Al posto di Sharknado qua mettiamo le balene. In bo. No, mi è piaciuto un sacco questo livello. Questo livello era il più bello. È stato bellissimo. È stato davvero bellissimo. Allora, fammi vedere per curiosità cos'è quello dopo. E... Una fortezza. Questa è una fortezzina. Sembra quella di Colony, eh. Guarda, 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 guarda. Che bellino, guarda, che bellino. Guarda che ti piace, sì, 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 sì. Asciendici un bel like. È sempre la prima volta che vedete il nostro video potete considerare di iscrivervi al canale per del video in tre episodi. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao.